5 cose da sapere prima di investire in obbligazioni. 1. Quando compro un'obbligazione divento creditore, sto infatti prestando il mio denaro all'emittente dell'obbligazione. 2. Il possessore dell'obbligazione ha diritto a ottenere alla scadenza del presito il capitale prestato più gli interessi. 3. Il prezzo delle obbligazioni è strettamente legato ai tassi di interesse. Infatti, se i tassi di interesse salgono, il prezzo delle obbligazioni scende. Al contrario, se i tassi di interesse scendono, il prezzo delle obbligazioni salirà. Questo è chiamato rischio di interesse. 4. Sebbene si è considerato da molti l'investimento sicuro, comporta comunque dei fattori di rischio. Se infatti l'emittente dell'obbligazione risulti inadempiente nella restituzione del capitale o nel pagamento degli interessi, questo è chiamato rischio di credito. Se invece ho necessità di vendere prima della scadenza la mia obbligazione e ho difficoltà a trovare un acquirente, questo è chiamato rischio di liquidità. 5. Le obbligazioni possono essere acquistate al momento dell'emissione, cioè sul mercato primario, oppure da chi le aveva sottoscritte in precedenza, cioè sul mercato secondario.